Che cos'è un difetto dell'occhio congenito? Quando un bambino nasce con una condizione agli occhi è conosciuto come un difetto congenito dell'occhio. La condizione può influenzare lo sviluppo degli occhi e compromettere la vista. A seconda del difetto specifico può o non può essere ereditario. In alcuni casi può verificarsi a causa di infezioni, farmaci o a causa di una malattia o di una malattia sofferta dalla madre durante la gravidanza. La maurosi congenita di Leber, la cataratta congenita e il glaucoma congenito primario sono tutti difetti congeniti comuni. La maurosi congenita di Leber è un difetto ereditario congenito dell'occhio in cui un bambino nasce senza vista o con una vista estremamente scarsa. Ci sono alcuni sintomi che possono accompagnare questo difetto, come il rapido movimento degli occhi, gli occhi incrociati o gli occhi che appaiono torbidi. In alcuni casi il bambino può anche avere una qualche forma di ritardo mentale. La cataratta congenita è un altro tipo di difetto dell'occhio che si verifica alla nascita. Una cataratta è definita come un annebiamento della lente naturale che si trova nell'occhio. Può svilupparsi per una serie di motivi, come la madre che ha un'infezione durante la gravidanza o come conseguenza del suo utilizzo di determinati tipi di farmaci. La cataratta congenita può anche essere il risultato di altre condizioni, come la sindrome di Down. In molti casi, è difficile individuare la causa effettiva della condizione. Il glaucoma congenito primario ha un difetto in cui il sistema di drenaggio dell'occhio non funziona correttamente o non si forma correttamente. Ciò causa spesso una maggiore pressione nell'occhio perché il fluido che normalmente userebbe il sistema di drenaggio non può drenare e accumularsi come risultato. Quando questo si verifica per un lungo periodo di tempo può causare danni al nervo che trasporta informazioni dall'occhio al cervello. Se questo nervo, chiamato il nervo ottico, viene danneggiato, può causare cecità o perdita della vista. Alcuni dei segni comuni che un bambino ha questa condizione sono sensibilità alla luce, nebbiose cornee, lacrimazione e occhi ingrossati. Se un difetto dell'occhio congenito provoca una perdita della vista, questa perdita può verificarsi immediatamente o dopo mesi o addirittura anni. È importante scoprire i difetti dell'occhio congeniti il più rapidamente possibile. Sebbene non tutti i difetti possano essere migliorati, la diagnosi precoce e il trattamento possono salvare la visione del bambino. Non tutti i difetti oculari congeniti portano alla cecità. L'eterocromia è un difetto congenito in cui un occhio ha un colore diverso rispetto all'altro. Mentre può verificarsi a causa di altre condizioni, è spesso non problematico e gli occhi spesso funzionano correttamente. L'aptosi congenita o le palpebre cadenti è anche una condizione che non ha sempre un effetto negativo sulla vista, sebbene possa indicare altri problemi agli occhi o alla salute.